Il Monopoli quest'anno non parteciperà agli spareggi playoff, un pizzico di amarezza tra i tifosi, c'è consapevoli però che questa stagione 2020-2021 è stata davvero difficilissima a fronte Covid, soprattutto con la squadra di Beppe Scienza. Peccato perché se il Bari fosse stata la squadra miglior quarta ci sarebbe stata qualche chance in più per i bianco-verdi. Mannaggia il Bari, mannaggia, mannaggia, si arrivava bene il Bari, ma no, va bene, sono un po' rammaricato perché secondo me potevamo fare molto di più, molto di più perché la squadra aveva le possibilità di fare meglio. Purtroppo sono stati commessi molti errori, qualche giocatore non era riuscito a integrarsi subito nella nostra realtà, sono successe anche tutte le disavventure individuali per i giocatori e di società, di squadra, che hanno portato veramente a tante problematiche. Abbiamo perso tantissimi punti in maniera assurda, con tanti gol presi in maniera evitabile magari. E poi sia l'andata che il ritorno nel momento in cui eravamo in grande, grande ripresa, abbiamo preso due botte forti dal virus che ci hanno un pochino rallentato. Però ripeto, pochi alibi dovevamo e potevamo fare di più perché ripeto, nonostante tutto questo, recriminiamo per troppe partite, per troppi gol, per troppi punti presi. Avremmo dimostrato che anche l'ultimo ricampionato a Catanzaro, contro una scuola che aveva mille motivazioni più di noi, li abbiamo messi in grande difficoltà.